Buongiorno, mi chiamo Avetta e sono titolare del ristorante Avetta di Cossano Canavese, che ha una specialità che è quella dei funghi porcini. Il Canavese, in particolare la nostra zona, Cossano, Masino, Caravino, è un territorio propizio per la raccolta dei funghi porcini e quindi i miei genitori che gestivano questa trattoria locale dal 1921, anzi il nonno prima ancora dei miei genitori, hanno sempre avuto questa specialità, questo culto del fungo porcino e quindi la cucina si basa essenzialmente su questo prodotto che è un prodotto proprio del nostro territorio. In particolare sono qui con questo vasetto di funghi porcini sott'olio che rappresentano per noi un piatto d'antré quando il cliente si sia da tavola nel nostro ristorante ed è un piatto prelibato perché è cucinato con una particolare ricetta ideata da mio papà che conserva un mix di sapori che lo rendono davvero speciale. Noi siamo a Cossano Canavese, proprio vicinissimi al castello di Masino, una zona molto bella, bella da visitare, bella per gustare prodotti così tipici come i funghi porcini. Grazie.